Arriva il suo cross secondo polo, Skriniar! Calcio d'angolo di Akan Chuchanolu. Skriniar va su e la mette nel culo di Gesù. Dzeko. Ancora Charanolu. Porca madonna! Che gol di merda! Si presenta così! A San Si! Akan Dio Kan! Wow! Wow! Uuuu! 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 Straarts! Straarts! E lol! Le Cipolle! Hanno gli strati! Le Cipolle? Hanno gli strati! Gli Orchi? Hanno gli strati! Gli Orchi? Hanno gli strati! Gli Orchi? Quadrado, dentro per Bentancur, che è libero, mette lo scratto in mezzo di Bala! Ma-ma-ma-ma-bala! Solo due minuti! E Ronaldo lo mette in bocca! Paolo Di Bala! Occhio perché Ludinese è sbilanciata! Quadrado beve la lanciata! Inani in aria! Quadrado! Due a due! Arslan scambia con, scambia con Pereira! Ancora Arslan! Cezni mani di burro! Cazzo di rigore! Nessun dubbio! Cezni è una testa di cazzo! Parte Pereira, che va a sbattere Cezni! 2-1! Gol dell'ex di Roberto Carlino! 3-0 Inter! Arriva anche il gol di Arturo Cazzo duro! Ma Arturo cazzo duro? O Arturo col culo a tamburo? Arturo è basta! Oh! Ma che? C'è pure Arturo vattela pigliando al culo! Abbiamo rapito sua madre! Ma non me ne frega un cazzo! L'altruismo! Il virtuosismo! Il nazismo! L'autismo! Di Nicolo Barella! Che bel giocatore! Di testa! Arriva anche il gol di quella testa di cazzo! Ed in cieco! Che mette il cazzo nel culo! Cezni! Dribbling a cazzo! Poi c'è il raddoppio di Ocacca! Occhio! Perché la f*** è vuota di Ulofeu! 2-2-2-2-2! Pare che Cezni sia ritardato! Chiesa che prova a metterla in mezzo per Ronaldo! Cezu Bastardo! Ci è Isch! Ooooooooo! Fuorigioco! Perno. Hino verde! Hino verde! Annex! Pudì! III-1-2-1-2-2!